Via con l'attacco ad Alfa 1 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 Vakola! 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 Cazzo, cazzo, cazzo! Le loro risorse sono al 50%. Gli alleati stanno incacciando a Charlie 1. Cazzo, cazzo! Cazzo! Bingo! Ne ho preso uno! Cazzo! 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 Il nemico è in difficoltà! Veicolo! Cazzo! 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 Vecchio! Le nostre forze sono dimezzate sotto ogni aspetto Versaglio pazzuto Gran corpo Grazie Veicolo neutralizzato! Pericolo neutralizzato! Marta! Le truppe alleate stanno conquistando Delta 1. Cazzo cazzo, cazzo! Non diverta! Non diverta! Non diverta! Gli alleati stanno ingaggiando l'obiettivo 30-1. Grazie per la visione! Ha colpito il bersaglio! Gli alleati stanno catturando l'obiettivo Charlie-1. Com'è la situazione? Possiamo vincere signore, controlliamo gli obiettivi. I russi sono a corto di truppe e rifornimenti. Forza nemica Charlie-1. Non dategli tregua! Non possono sostenere l'attacco ancora per molto! Grazie per la visione!